Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuova recensione di una replica potteriana, si tratta del mantello dell'invisibilità. Lo aspettavo da tanto, aspettavo da tanto una replica e finalmente si sono decisi a crearla così da poter completare i doni della morte. Possedevo già la bacchetta Noble Collection di Sambuco, possedevo già l'anello di Gaunt, quindi mancava solo il mantello. E la cosa carina, la chicca, è che questo mantello funziona davvero. Ma adesso vi andrò a spiegare, naturalmente ragazzi prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il codice 7Potter su Pampling avrete il 20% di sconto su tutto il loro sito e il codice è riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Questa maglietta l'ho presa naturalmente su Pampling come tutte quelle che indosso nei miei video. Ma adesso direi di dare un taglio alle ciance e di cominciare con il nostro unboxing. Ve l'avevo già mostrata su Instagram la scatola, mi trovate come Antonio.seria e eccola qui. È una scatola molto molto bella e la prima cosa da sapere è che esistono tre versioni diverse, perlomeno in Italia io ho trovato tre versioni diverse su Amazon. C'è la versione che tengo io qui tra le mani con questa scatola che a me, devo dire, piace parecchio perché è una scatola molto semplice ed elegante. C'è scritto mantello dell'invisibilità, abbiamo i doni della morte sopra e sotto e la trovo molto molto carina anche da esporre. Questa è la versione che per qualche oscuro motivo loro chiamano Deluxe, ma in realtà è la versione base, tra virgolette, perché contiene all'interno il mantello dell'invisibilità e il treppiedi, un piccolo treppiedi per posizionare lo smartphone, per poter utilizzare l'applicazione che permette di realizzare l'effetto del mantello dell'invisibilità. E all'interno non c'è nient'altro. Questa qui io l'ho pagata intorno ai 50 euro, credo 47-48, una roba del genere, anche se il prezzo scilla tantissimo. Quindi vi lascio i link comunque di tutto quello che vi dirò sotto in info box. E trovate anche la mia vetrina Amazon col negozio in collaborazione con Amazon, dove ho selezionato libri, materiale potteriano, repliche, tutto quello che può essere di vostro interesse. Ma detto questo, passiamo alla seconda versione che invece ha la scatola bianca, la classica scatola bianca come quella dei Funko Pop con tutte le varie trame potteriane. E in quel caso è una versione leggermente più cara che contiene, oltre al mantello e il supporto per il telefono, anche una replica della bacchetta di Sambuco. Ma non si tratta della replica Noble Collection, è una bacchetta, credo, in plastica, perché dalle foto non sembra di altissima qualità. Sembra un po' una bacchetta per bambini. Quindi io sinceramente non vi consiglio, cioè non mi sento di consigliarvi di acquistare quella confezione per avere anche la bacchetta, perché spendere 20€ in più per avere quella bacchetta, secondo me, non ha tanto senso. Con altri 5-10€ prendete la replica Noble Collection. E poi esiste una terza versione ancora, dove è incluso anche l'anello di Gaunt. In quel caso non so dirvi se la qualità è paragonabile a quella di Noble Collection. Dalla foto sembra abbastanza simile. Quello Noble Collection è in metallo, quello non vorrei fosse in plastica, non ve lo so dire. Quindi, in ogni caso, spendere circa 70-80€ è davvero molto più caro rispetto a questo qui. Ne ho visti alcuni anche a 90€, quindi roba da matti. Io non me la sento di consigliarvelo. Mi sento di consigliarvi invece la versione base, che con meno di 50€ potete portarvi a casa. Spesso le trovate anche ricondizionate su Amazon e quindi riuscite a risparmiare anche qualcosina, perché capita che magari lo acquistino, lo provino e poi magari lo rendano di nuovo indietro da Amazon. Quindi capita spesso e volentieri di trovarli anche ricondizionati. Io l'ho acquistato nuovo e questa naturalmente è una fascetta che va tolta dalla scatola, dove troviamo una piccola preview di quello che si può fare con questo mantello. Infatti vediamo il telefono qui con l'effetto desiderato, quindi l'invisibilità. E poi naturalmente qui viene spiegato che è possibile scaricare un'applicazione per poterlo fare. L'applicazione non fa altro che andare a simulare l'effetto che tutti noi su YouTube utilizziamo, quello del green screen, del chroma key. Quindi io non utilizzerò l'applicazione, ma vi farò vedere l'effetto direttamente nel video, perché è facilmente replicabile anche con un qualsiasi editor come Premiere di Adobe. Quindi naturalmente adesso vi mostrerò bene tutto. Andiamo ad aprire la nostra scatola, che si apre così come una scatola di scarpe. E all'interno ecco che troviamo qui il mantello all'interno della carta, in questa carta filerina. E poi abbiamo questo piccolo supporto per smartphone. È un cinesone ragazzi, pesa sia e no 20 grammi, quindi credo che non riuscirà a tenere in piedi neanche lo smartphone. E poi tra l'altro, cosa abbastanza stupida secondo me, Naturalmente il supporto prevede che il vostro smartphone stia in orizzontale, quindi in questo senso qui. Ma per poter usare l'applicazione e anche palesemente illustrato sulla scatola, lo smartphone va tenuto in verticale. Quindi questo coso qui non serve praticamente a nulla. Detto questo, passiamo alle cose serie e prendiamo qui il nostro mantello. Sul fondo troviamo anche questo foglietto del Wizarding World con le istruzioni. All'interno naturalmente ci viene mostrato come utilizzare lo smartphone, eccetera, eccetera. Quindi naturalmente questo qua adesso non lo andremo a vedere. E poi ecco che all'interno troviamo il nostro mantello, finalmente direte voi. Eccolo qui. Va a riprendere la trama che abbiamo visto nei film di Harry Potter. Quindi hanno ripreso la stessa stampa. È molto molto grande, è davvero un bel mantello. E all'interno è totalmente foderato in verde. Proprio per permettere di utilizzare il chroma key o comunque l'effetto del green screen. E come si fa ad utilizzarlo? Naturalmente voi qualora voleste fare un cosplay dovrete andare ad indossare il mantello in questo modo. Quindi andando a metterlo così dalla parte esterna e semplicemente andare a simulare l'effetto visivo del mantello sulle spalle. Ma qualora invece voleste fare un bel video da condividere sui social per far divertire i vostri amici, basta semplicemente utilizzare l'effetto chroma key che trovate su Premiere. E ragazzi vi basta girare al contrario il vostro mantello e utilizzarlo dalla parte verde. Basta gettarlo sulle spalle e come vedrete se funzionerà l'effetto chroma key io in questo momento dovrei avere solamente la testa visibile. Quindi potrei anche alzarmi e ragazzi dovrei avere tutto il corpo trasparente. Quindi questo è l'effetto voluto da questo mantello che comunque trovo molto molto carino e però vi dirò che il prezzo mi sembra abbastanza alto. Quindi come vi stavo dicendo ragazzi il prezzo a mio parere è leggermente alto. Alla fine si tratta di un telo, una specie di coperta foderata di verde e carina. La trama dovrebbe essere come quella che abbiamo visto nei film, me ne accerterò. So che è la stessa però magari me ne accerterò meglio guardando il film di Harry Potter, il primo film. E ragazzi naturalmente come vi dicevo 50 euro sono tanti soldi per un mantello, per una replica del genere. Quindi pensatevela bene. Naturalmente io l'ho presa sia per portarvi la recensione, anche perché mi fa tanto tanto senso toccarlo. È un materiale che mi dà davvero fastidio al tatto, quindi probabilmente lo metterò nella scatola e non lo tirerò mai più fuori nella vita. Ma naturalmente l'ho acquistato, uno, per portarvelo sul canale, per recensirlo. E due, naturalmente per poter completare i doni della morte. Quindi ci sta in una collezione che se rispetti, secondo me, bisogna avere perlomeno gli Horcrux e i doni della morte. Anche in versioni non ufficiali, ognuno fa quel che può, però è bello avere tutti questi oggetti che sono così iconici all'interno della saga. Ragazzi, io adesso devo andare a piegare il mio mantello e riporlo nella scatola. Fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi è una bella replica, una buona replica. E se naturalmente pensavate fosse fatta diversamente o naturalmente se magari vi aspettavate qualcosa di totalmente diverso. Non lo so. Fatemi sapere sotto nei commenti. Io sono soddisfatto da una parte, ma non tanto dall'altra per il prezzo. Ma tant'è, dobbiamo accontentarci. Ci spennano, lo sappiamo. Noi fan poteriani siamo sempre sotto pressione per acquistare continuamente nuovi oggetti. E i prezzi continuano a salire senza motivo. Ma ragazzi, loro aumentano i prezzi. Noi continuiamo a comprare, quindi hanno vinto l'oro. Bene, detto ciò ragazzi, noi ci vediamo prestissimo con tanti altri video poteriani. Ho davvero tante tante cose da farvi vedere. Devo ancora mostrarvi anche i libri illustrati. Non l'ho dimenticato, me l'avete chiesto in tanti su Instagram. Naturalmente ve li porterò. Li sfoglieremo assieme anche tutti gli altri libri di Jim Kay. E anche Animali Fantastici e Le Fiabbe di Bedelbardo. Quindi, ragazzi, datemi tempo, faremo tutto. E a questo punto non mi resta che dare un taglio alle ciance. Chiedervi di lasciare un commento, condividere il video, lasciare un mi piace. Perché sarebbe davvero di grande, grande sostegno. E ragazzi, naturalmente seguitemi su Instagram, Antonio.seria. E a questo punto noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao! Ciao!